musica 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 questo segno mi ha spettato e veravoso mi ha spinto ad assumere questa importante decisione ci fai incaricati di recuperare un carico di 4.018 donce bronzanti da consegnare a ogni luogo strategico dell'inverno Tonno, questo pianeta è molto diverso da come lo ricordavo lei è sicuro di aver individuato la piattaforma spaziale che cercavamo? lì miseriaccia di suprostata ci può scommettere lo monocoli? aspetta che devo la maschera! quale problema siete riusciti a individuare? è già tutto rientrato una bruciatura al naso so cosa ha fatto e questa è quella che credo che sia? ne compro 12 chili ma che è sta tanica fumanti? non la tocchi lei non sa cosa può capitare a chi assume questa medicina senza averne realmente bisogno lo vedi quel piccolo pianeta desertico? è il pianeta Nemesi per il pianeta è così brutta che mi fa morire si prepari per l'esperienza di una vita intera questo mi friccia questo mi friccia Grazie a tutti.